musica eccoci qua ragazzi bentornati nel canale di Danix torniamo con dirti o rally proseguiamo il campionato siamo nel rally di Svezia siamo al quinto posto andiamo a rifare le ultime tre tappe 5, 4, 3, 2, 1, via destra 5, 60, sinistra 2 in ritardo destra 5 sinistra 3 e mezza lunga beh siamo all'ottimo i pantanati vediamo qua dai percorsi molto stretti molto insidiosi questi di Svezia vai vai gira sinistra 3 e mezza lunga sinistra 2, 40 togliamo perso prima due secondi sinistra 2 e mezza lunga sinistra 5 lunga suddosso 40 ma è bella vai sinistra 3 suddosso si apre 60 chi ho destra 3 lunga 40 sinistra 5 lunga suddosso eh ma perchè non la buttano via questa neve dalla strada quello che io vorrei sapere perchè lascio una mucchiata così la neve ti da possibilità di uscire un attimo fuori la macchina se ne va per i fatti sui destra 2 dopo pivio non tagliate sinistra 4 dopo pivio dosso piccolo dosso salto 40 sinistra 3 si apre e si restringe a 40 so io proprio come hanno fatto a fare il settore così veloce gli altri 6 secondi sinistra 6 nell'affossamento destra 2 suddosso si apre 6 e si distringe diventa 2 sinistra 3 lunga e si serviva 2 sinistra 3 lunga e si serviva 2 sinistra 4 e poi non male questa mi vuole non male che ho scelto questa perchè c'era anche la formula veramente pepissima non girava niente già questo gioco pecca nel destra e sinistra perchè non girano nulla manca pure che metto la macchina che non girano questa è nettamente migliore questa direi sto andando molto meglio con questa tutte le tappe quindi sinistra 4 lunga suddosso si apre 80 su punette e affossamento attenzione sinistra 4 si restringe diventa 3 suddosso divvio 3 a 7 secondi allora ci può stare sinistra 6 suddosso 130 su punette sinistra 4 lunga 60 vai maledetto sole non vedo una ceppa no 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 imbarcarti appena prendi la neve esterna alla strada proprio sinistra 3 si apre 1 si imbarcala anche guarda destra 3 lunga e dosso 60 attenzione destra 3 si restringe tornante dentro pure i tornanti ci mancano pure i corti dai e non gira la macchina non mettetemi i tornanti attenzione destra 4 si restringe diventa 2 80 destra 4 40 punetta tra 4 ok ok va bene vediamo un po' come siamo arrivati terzi ah dai almeno abbiamo recuperato una posizione è fattibile ancora arrivare terzi vediamo se riusciamo ma bisogna fare bene negli ultimi due tappe vediamo un po' anche qua preparazioni poche anche i danni perchè comunque nella neve i danni sono un pochettino meno pesanti perchè la neve è più morbida però fanno meno danni come nei muretti di pietra o negli alberi un pochettino più dura la situazione qualcosa che non mi piace in questi percorsi è la neve che appena vai un attimo fuori la macchina rallenta in una maniera pazzesca e perdi troppo il fatto che è difficile rimanere sempre nella strada quindi quello mi fa fastidio nei rally di svezzi potevano fare benissimo a larga la strada passateci una una maledetta rospa qua tagliate questi alberi fatta la larga la strada questi sono pini destra 3 e poi tornante sinistro aperto metteteli tornanti che abbiamo già delle sofferenze a girare con una curva normale non metteteli tornanti destra 5 su cunetta 40 destra 3 e mezzalunga su dosso abbiamo delle sofferenze a fare curve normali con questa cavolo di neve percorsi stretti a dir poco stretti cioè ci passa a malapena una macchina a mamma mia il fatto che poi qui la macchina non rimane dritta anche se non tocchi poi lo sterzo va un po' o verso destra o verso sinistra quindi devi sempre un po' correggere la traiettoria destra 5 lunga su dosso attenzione tieni la sinistra su salto 130 cunetta ponte 40 vedete che va bene qua sinistra 5 su cunetta rallenta 40 attenzione sinistra 4 lunga mi fa fastidio a me mi fa fastidio questo a me la neve esterna ci blocca in una maniera improponibile improponibile non si esce e poi casualmente non so per quale motivo non mi da neanche più il recupero vettura mi tocca riniziare la tappa decisamente tutto dall'inizio eh no non ci siamo ci sono troppe cose che qua non vanno affatto bene non vanno affatto bene ci sono cose che vanno assolutamente pacciate all'istante in questo gioco non ci siamo ecco lì si arriva assolutamente il recupero vettura perché non avevo intenzione di arrivare di riavviare la tappa e non me la neanche è dato si impantana in una maniera pazzesca la macchina proprio non riesci più destra 3 suddosso punetta 60 destra 5 80 vabbè vediamo fa destra 4 non tagliare sinistra 6 non tagliare destra 5 lunga attenzione dosso 40 mi toccava per forza riavviarla perché come ho detto non non ne riuscivo più da lì quindi destra 3 suddosso 40 sinistra 5 su punetta 40 destra 3 e mezza lunga suddosso sinistra 6 veramente lo sto odiando di una maniera pazzesca questo rolli di svezia eh via la sicuro la sicuro ragazzi sto odiando in una maniera pazzesca adesso nei prossimi video comunque passiamo a un'altra modalità di campionato perché tanto qua l'abbiamo visto e poi comunque per il momento ci sono poche località quindi anche se andiamo avanti con un altro campionato ancora più difficile le località sono queste si ripeteranno sempre finchè non ne aggiungono altre passiamo a un'altra modalità vediamo un po' tanto credito per comprare qualche altra macchina ne abbiamo no non c'è modo non c'è modo la neve è proprio la neve è maledetta peggio dello sterrato 130 cunetta ponte 40 sinistra 5 su punetta rallenta 40 attenzione sinistra 4 lunga apre e si restringe diventa 3 non tagliare destra 4 non tagliare 130 sinistra 4 dopo bivio 100 dosso 100 attenzione frena prima della casa pulva angola a destra 60 dopo bivio ho detto frena prima della casa finiamo prima della casa strano che hai detto la casa perché le indicazioni tu per le precise non sei propriamente il top no no sto copirotto a voi sinistra 6 mezza lunga su punetta non tagliare guarda come è stretta la strada secondo voi come cazzo fai a stare dritto nella strada se poi vai per forza un po' fuori non pantani quella maledetta neve sinistra 6 sul lungo dosso 80 su punetta sinistra 5 su punetta attenzione 60 frena addosso poi destra 3 non tagliare 40 sinistra 3 lunga 60 addosso destra 4 nel busto sto pure in lunghetta di tappa 130 su piccolo dosso sinistra 5 lunga non tagliare sinistra 6 mezza lunga su punetta sinistra 4 mezza lunga su un dosso 80 ok dai siamo quasi arrivati sinistra 4 mezza lunga su punetta cercando di fare il più pulito possibile andando all'ultimo tratto quindi andiamo all'errore che abbiamo fatto gli addirittori di inglese bug a non finire proprio a non finire gli addirittori di inglese della voce l'aveva fatto anche un'altra volta va bene quarti ma comunque siamo ancora a terzi dai buona cosa abbiamo anche recuperato dai vediamo di fare l'ultima vediamo se riusciamo ad accaparrarci almeno il podium che qui in Svezia che di più non si può sinceramente è veramente tosta proprio la situazione andiamo a fare l'ultima 5 4 3 2 1 via dosso destra 6 lunga si restringe diventa 40 attenzione dritto su due dosi sinistra 4 su dosso forse salto 40 punetta approssamento medaglie forse o si o no voglio sapere dimmi c'è un salto si o no non dirmi forse sinistra 5 lunga su cunetta sinistra 5 stai all'interno attenzione sinistra 5 su dosso punetta approssamento destra 5 su salto sinistra 5 sinistra 5 con il vento su dosso schifosa sto guardando come una bestia la neve come una bestia sinistra 5 60 su cunetta destra 3 su dosso 80 sinistra 4 e dosso 60 ci sta ci sta 4 secondi sinistra 4 si restringe diventa 3 sinistra 2 e mezza lunga ci sta destra 3 si apre curva difficile con vessa 40 attenzione tieni la sinistra su dosso 40 a sinistra 3 il fatto è che sono tutte stradine queste quindi tutte basta un minimo errore ho a destra 4 si restringe diventa 3 ho decolli ho ti capovolgi vieni ho ti impantani nell'annello ho te ne vai contro un'albero ci sono anche quelli eh destra 6 lunga su cunetta sinistra 4 e mezza lunga 40 ecco vedete quello che dico è la fottuta neve che c'è eh la madonna vabbè vai vai l'albero in pieno eh no 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 non ci siamo odioso odioso re di svezia un'oliosità pazzesca lo sto posso vedere a parte che abbiamo daneggiotto la macchina perchè va verso destra quindi destra 5 e mezza lunga ho preso in pieno un albero quindi abbiamo daneggiotto un po' anche lo sterzo i danni sono fatti molto bene eh non ci siamo non ci siamo non ci siamo finiamolo così perchè non lo non lo voglio più vedere questo re non lo voglio più vedere attenzione destra 4 sul dosso salta sinistrinse 60 sinistra 3 su punetta dosso 60 addosso sinistra 4 mezza lunga dosso salto destra 5 60 destra 4 40 tiriamo tiriamo nell'ultimo tratto ma abbiamo già più di 20 secondi attenzione destra 6 posizionale probabilmente ci siamo giocati il podio qua perchè abbiamo perso troppo nell'ultimo tratto pieno un albero la macchia va un po' verso destra non ne usciamo non ne vogliamo uscire vabbè andiamo a vedere com'è la classifica finale eh no no ci siamo giocati il podio maledetti vabbè qui arriviamo a quarti che dobbiamo fa? e scendiamo pure scendiamo pure comunque è improponibile sinceramente andare avanti così è improponibile perchè come vedete c'è campionato aperto che lo abbiamo fatto dilettanti quello che stiamo andando a fare se arriviamo terzi ci sblocca quello professionisti poi c'è light e masters no vabbè non si può troppo difficile comunque ragazzi direi che ci possiamo salutare qua andiamo a terminare questo campionato dilettanti e poi passiamo agli altri perchè voglio vedere anche gli altri c'è questo rally cross questo è ancora bloccato quindi c'è ancora un bel po' da vedere ma è chiaro che è improponibile ormai sto giocando gioco da un bel po' e non si riesce a vincere comunque ragazzi come sempre voi commentate condividete iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima saluto a tutti da adesso ci vediamo ci vediamo ciao ciao